Ciao a tutti amici, sono Davide Cifidiello e oggi vi parlerò dell'arrotondatrice Boulmatic, una macchina ideata da Fabio Cagliari che ci permette di arrotondare impasti con diverse idratazioni. Andiamo a vedere il primo impasto che arrotondiamo. Questo impasto che vedete tra le mie mani ha un'idratazione del 60 per cento e abbiamo già pezzato panetti da 250 grammi. Come vedete ogni panetto a pochi secondi dall'altro verrà arrotondato e dopodiché siete pronti per mettere nella vostra cassetta di lievitazione. Secondo impasto, un impasto al 65 per cento di irrigatazione, sempre con panetti da 250 grammi, dopo che sono stati arrotondati uno a pochi secondi dall'altro siamo pronti per mettere nella nostra cassetta di lievitazione. Al 70 per cento, con l'aiuto leggermente di un velo di farina, arrotondiamo sempre panetti da 250 grammi, uno a pochi secondi dall'altro. Una volta che sono usciti fuori sono voluti per lievitare. Ultimo impasto, con la maggiore idratazione 75, andiamo sempre a dividerlo e a spezzarlo con panetti da 250 grammi. Come vedete anche ad un 75 per cento di idratazione la nostra arrotondatrice arrotonderà. Dopo il processo di lavorazione anche pulirla è molto facile. Come avete visto, l'arrotondatrice ci permette di arrotondare vari impasti con diverse idratazioni senza alcun problema, facilitando il nostro lavoro in pizzeria. Ciao a tutti da Davide Cividiello